Ma perché la Juventus viene penalizzata in questa stagione e le si toglie un traguardo e magari le altre con una penalizzazione inferiore si troveranno due, tre, quattro punti magari tolti a novembre? L'altra domanda è se c'è, diciamo, un reo confesso, non saprei come definirlo, un protagonista che dice io sono stato pedina di un gioco che non era sportivo e mi riferisco al giovane Liguoli nella vicenda Osimeni. Perché in questo caso la giustizia sportiva non si muove? E perché la pena afflittiva, qualora venisse a risultato colpevole Napoli, si dovrebbe spostare alla prossima stagione? E ancora, quale pena afflittiva potrebbe avere Napoli la prossima stagione? E perché Napoli nella prossima e la Juventus in questa, essendo comunque vicende che hanno riguardato passate stagioni di calcio? La mia... Che dire ragazzi? Benvenuti in questo video, mettete un bel like, condividete il più possibile, commentate con il vostro parere per quanto possiate commentare senza andare oltre gli insulti o le parolacce che vi vengono in questo momento perché è una cosa naturale sentire queste parole. Perché? Perché queste sono le parole che pensiamo, sono tutto quello che diciamo tutti noi giuventini e non solo giuventini, perché ci sono tanti giuristi anche non giuventini che hanno parlato per quanto riguarda questo processo e l'hanno definito una pagliacciata, una cosa assurda. Fabio Ravezzani praticamente affossa il Napoli e non solo, affossa anche il sistema, perché come già noi abbiamo detto varie volte nei nostri video, la domanda è perché due pesi e due misure? Adesso andiamo a parlarne. Prima di cominciare a commentare quello che abbiamo appena sentito, vi invito, come prima ho detto, a condividere il più possibile. Se non siete ancora iscritti al canale, questo è molto probabile che siete per la prima volta qui, prima di iscrivervi al canale fatevi un giro, guardatevi qualche contenuto precedente. Se vi piacciono allora vi iscrivete e attivate la campanellina perché è molto importante, solo così vi arriveranno le notifiche per quanto riguarda i video futuri e le live che faremo. Detto questo commentiamo le parole di Ravezzani che sono un po' le parole di tutti i tifosi della Juventus, ma anche dei tifosi obiettivi di altre squadre, perché la domanda che sorge spontanea è perché la Juventus viene condannata dai media in immediatamente. Viene aperto un processo contro la Juventus per qualsiasi cosa, scusatemi, mi stavo andando la saliva di traverso, per qualsiasi cosa la Juventus faccia è intercettazione a go-go, mentre per quanto riguarda le altre società non se ne parla. Non si parla dell'Inter e dei debiti che ha, non si parla del fatto che l'Inter gioca senza più lo sponsor nella maglia e nessuno si chiede come mai abbia perso lo sponsor. Per quanto riguarda il Napoli è palese quello che ha detto Ravezzani, il fatto che perché la Juventus debba pagare in questo campionato la pena debba essere afflittiva, invece per quanto riguarda il Napoli e aggiunge lui che ci saranno dei punti inferiori di penalizzazione dati rispetto a quelli alla Juventus, ma questo noi ce lo aspettiamo tutti perché è una cosa normale, vai a togliergli ai napoletani questo scudetto e succede un macello, perché puoi togliergli il reddito di cittadinanza a uno che ne ha bisogno, ma non togliergli lo scudetto perché impazziscono lì più che i soldi, perché naturalmente è tanto tempo che non lo vincono e ci tengono particolarmente. Tra l'altro mi fermo un attimino per fare i complimenti per quanto riguarda il calcio giocato espresso dal Napoli, perché a me in tante partite mi ha davvero divertito. Poi il fatto che sia uscita quello cremonese in Coppa Italia e con il Milan che ieri ha fatto una brutta figura contro l'Inter in Champions League ci fa capire quanto la dimensione del Napoli sia estremamente ridotta rispetto a quello che i media ci fanno credere, ma oggi dobbiamo commentare le parole di Ravezzani e cercare di darci una spiegazione per quanto riguarda la questione due pesi e due misure, perché per quanto riguarda la Juventus è già fatto il ricorso, ci sono già le date, quindi il 22 maggio ci saranno le nuove penalizzazioni in fretta e la Juventus e poi da lì si partirà per vedere se la Juve farà ricorso oppure no, io mi auguro e spero e penso che la Juventus farà ricorso senza dubbio, noi molto probabilmente arriveremo anche al TAR, però per quanto riguarda invece il Napoli si sono chiesti sei mesi di proroga e ancora adesso nessun giornale, nessuno ne parla. Fabio Ravezzani ha avuto il coraggio anche se andando a vedere per intero il suo video si capisce che l'ha dovuto tirare fuori questo argomento perché comunque non si può più nascondere, ma c'è andato molto leggero per quanto riguarda la squadra partenopea, perché non si può pensare che la Juventus riceva 15, 6 o 9 punti di penalizzazione per delle plusvalenze fittizi, tra virgolette, perché poi le plusvalenze sappiamo che non sono regolamentate, quindi nessuno può dire quanto vale un giocatore rispetto ad un altro. Per quanto riguarda invece il Napoli ci sono proprio le testimonianze del giovane Liguori che ha descritto per filo e per segno la sua esperienza per quanto riguarda lo scambio Ozyman e i quattro calciatori a Lille, tra Napoli e Lille, quindi lì c'è proprio una testimonianza. Ci deve essere un trattamento molto probabilmente differente perché è più grave una plusvalenza tra virgolette fittizia dove io decido questo calciatore per me vale 100 e l'altra squadra decide per me vale 100 e lo cambiamo rispetto ad uno scambio dove i calciatori vengono valutati 7 e poi questi calciatori dall'altra parte non vanno mai, quindi questa non è una plusvalenza fittizia, questo è proprio un illecito sportivo, è un mettere a bilancio dei soldi rispetto a dei calciatori che non sono dei calciatori e la testimonianza ce l'ha chi ne è. Quindi il Napoli molto probabilmente ha poco da festeggiare perché se ha cominciato a parlarne Fabio Raveziani che sappiamo tutto essere tranne che è filo Juventino vuol dire che questa situazione prima o poi uscirà fuori e se ne dovrà parlare così come si dovrà parlare dell'Inter e del fatto che gioca senza sponsor. Ditemi voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, condividete il più possibile, cerchiamo di rovinargli un pochettino la festa ai nostri amici napoletani che stanno godendo ma non sanno che prima o poi queste cose devono essere prese al vaglio dei giudici e giudicati davanti a tutte le persone e vedere fino a che punto arriveranno con la pagliacciata che stanno ormai portando avanti da dicembre a questa parte e quindi fatelo girare, fateglielo sentire, mettete un bel like, condividete, io vi saluto. Ci vediamo stasera dopo la partita Juventus-Sivilla, speriamo bene, un abbraccio a tutti, ciao a io!